Benvenuti al bellissimo Palazzo Lollo, un esclusivo edificio storico del XIX secolo attualmente in vendita. Questo elegante palazzo è situato nella bellissima città di Vittorio Veneto, forse uno dei paesi più belli della regione Veneta. Un paese di 30.000 abitanti, annidato ai piedi delle prealpi, offre tutto ciò che una persona dei gusti sofisticati possa cercare. Dalle sue armoniose piazze, alle sue importanti opere di architettura ed arte, al suo verde naturale e ai suoi giardini curati magnificamente. Conosciuto per il suo ritmo di vita rilassato è il luogo più adatto dove vivere o passare le proprie vacanze. Inoltre è proprio al centro della zona del Prosecco e candidato per il 2018 a patrimonio dell'UNESCO. Con Venezia distante solamente un'ora a sud e le Alpi un'ora a nord, è il luogo perfetto per le più desiderate vacanze. Il bellissimo palazzo, costruito nell'Ottocento, corona l'antica piazza Foro Boario nel centro di Vittorio Veneto. È disposto su quattro livelli con un totale di 1500 metri quadrati. Nell'ultima ristrutturazione il palazzo è stato suddiviso in tre appartamenti, i quali sono accessibili da tre entrate separate, o dall'impressionante e imponente portone principale e in su per le scale padronali. Il primo piano conserva la gloria del palazzo quasi del tutto intatta. Di elegante fattura, il salone centrale sul quale si affacciano le altre stanze. Muri e soffitto sono affrescati ad opera della famosa famiglia veneta dei Paglietta. La tradizionale pavimentazione alla veneziana abbellisce il pavimento in diverse manifestazioni spettacolari. Ci sono due camere da letto che si aprono sul salone, molto spazioso, con alte finestre. Anche questi disegnati con affreschi ed eleganti mantovane decorate. I pavimenti di legno intarsiato aggiungono bellezza e maestosità a questa casa neorinascimentale. La terza stanza, la quale si apre sul lato nord del salone, è un magnifico studio con una bella libreria a luogo perfetto per lavorare o per rifugiarsi in una lettura. Il panorama mozzafiato della piazza e montagne serve da ispirazione al lavoro e allo studio. Il secondo appartamento si trova al secondo piano, accoglienti sala da pranzo e soggiorno eleganti ma funzionali per dare il benvenuto ad ospiti nella casa. L'appartamento ha una camera da letto matrimoniale con il lampadario di Murano e altre due camere da letto adeguate per accomodare famiglia o ospiti. Come al primo piano anche il secondo appartamento ha uno studio molto spazioso con due ampie librerie a muro e una graziosa stufa del 1800. Il terzo appartamento sporge dal palazzo centrale ed è stato rimodernato in un comodo appartamento di tre piani. Il piano terra è formato da una sala da pranzo, soggiorno, angolo cottura e un piccolo studio. Al primo piano troviamo una spaziosa camera da letto matrimoniale con annesso studio e stanza da bagno. Il secondo e ultimo piano è una bellissima soffitta, la vera perla di questo appartamento con travia vista e lucernari, un ampio spazio aperto con simpatico bagno. All'ultimo piano del palazzo centrale una vasta soffitta di 300 metri quadrati può essere trasformata in un altro appartamento. La casa è circondata da un giardino bellissimo, adornato da vari fiori e pianterare, i quali servono da rifugio all'ombra o da posto perfetto per fare due tiri a pallone. Ci sono molte altre caratteristiche affascinanti da scoprire a Palazzo Lollo che vorrai sicuramente venire a vedere di persona e una volta che lo farai siamo sicuri che vorrai chiamare questo posto casa.